Il diritto alla casa è una cosa seria. Con questo slogan, le lavoratrici e i lavoratori che lavorano nell'edilizia residenziale pubblica hanno indetto una manifestazione a Ravenna. Federcasa deve dare le risposte adeguate alle lavoratrici e ai lavoratori, hanno dichiarato gli organizzatori del presidio. L'edilizia residenziale pubblica è fondamentale per il Paese. La professionalità di chi è impegnato ogni giorno per assicurare politiche residenziali capaci di rispondere alla crescente emergenza abitativa deve essere riconosciuta dal rinnovo del contratto. Chiediamo che il personale sia valorizzato professionalmente e economicamente. Chiediamo un incremento economico, che tuteli i salari a fronte dell'inflazione elevata di questi anni e l'ultima richiesta è che siano conosciuti gli arretrati adeguati all'attesa per il rinnovo. Il rinnovo del contratto per noi è un'occasione per chiedere più attenzione verso le case popolari. Siamo in una situazione sempre più difficile, i lavori crescono, noi rimaniamo il personale che c'è, offriamo sempre più servizi e le esigenze aumentano. A parte il discorso che è stato anche l'alluvione, il fortunale, abbiamo gestito le persone in difficoltà, posizionato, trovato alloggi per le persone che anche del privato erano in difficoltà dal punto di vista dell'abitazione. I bisogni crescono e vediamo che c'è poca attenzione da parte delle politiche abitative. Le case popolari vengono date un po' per scontato e invece noi chiediamo che vengono poste l'attenzione sia per i finanziamenti e sia per la valorizzazione delle persone che lavorano, perché io penso che noi offriamo un buon servizio con pochissimi mezzi e questo lo vogliamo riconosciuto. Bisogna affermare il fatto che il diritto alla casa è un principio assai serio e questo diritto quotidianamente si cerca di garantirlo attraverso le attività delle lavoratrici e lavoratori di Acer di Ravenna che con la propria professionalità cercano di dare risposte significative ad un'utenza spesso debole, fragile. Allora se questo è un principio valido noi chiediamo il giusto riconoscimento economico e la giusta valorizzazione dei profili professionali entrambi collegati ad un contratto ormai desueto. Cosa che abbiamo più a cuore è un impegno maggiore da parte della politica su quello che è l'emergenza casa. Quindi oltre al rinnovo del contratto nazionale di lavoro con una parte economica che copra perlomeno la inflazione che c'è stata pesantemente in questi anni chiediamo un impegno della politica sull'emergenza abitativa che è una delle grandi emergenze che stiamo vivendo a maggior ragione sul territorio della provincia di Ravenna che è stato pesantemente colpito dall'alluvione. Quindi l'emergenza abitativa deve essere al centro della politica, delle politiche, delle amministrazioni pubbliche. Tant'è che nel nostro volantino lo slogan adottato è che il diritto alla casa è una cosa seria. Sicuramente ci aspettiamo un'attenzione su tutto il tema casa a partire appunto dalla valorizzazione dei lavoratori cioè di coloro che offrono un servizio ai cittadini. Il contratto che noi chiediamo è un contratto che deve almeno portare a una base tabellare che arrivi almeno al livello inflattivo che in questo momento sta pesando sulle famiglie di tutti quindi dagli utenti ai lavoratori. Ci aspettiamo di non essere da soli, ci aspettiamo che le istituzioni, che i dirigenti, che i comuni, i sindaci appoggino questa battaglia importante che non è solo per i lavoratori ma anche per i cittadini di queste città. Grazie.